Il reality di Giucas Casella è partito all'insegna del teatro. Il mago si è divertito a farsi prendere in giro da Alfonso Signorini e dai suoi compagni. Una garanzia di ironia e risate che portava molta leggerezza all'interno della casa. Giucas è sempre stato fuori dai litigi, dagli scontri più eclatanti e dagli schemi, conducendo un GF VIP all'insegna del divertimento. Ora le risate sono finite. Cosa ha combinato Casella? In queste ultime ore ne ha dette di tutti i colori, autoboycottandosi come un bambino che viene scoperto con la mano nella marmellata. Durante una conversazione con Sofì Codegoni ha riferito cosa gli suggeriscono dal confessionale e ha dispensato «Consigli alla ragazza su come emergere nel reality, vogliono le coppiette». Fin qui niente di eclatante, considerato che il pubblico si nutre delle love stories dei reality. All'improvviso Casella tira fuori un veleno che nessuno pensava scorresse nelle sue vene e sparla di Federica. New entry del grande fratello VIP, dentro per sedurre Gian Maria. Insiste poi con Sofì e le spiega come un oracolo. «La gente deve vedere che voi state insieme. Se tu lo vuoi salvare, così devi fare. Il giorno prima della puntata dovete dormire insieme». Gli spettatori di Mediaset Extra puntano il dito contro di lui e lo vogliono fuori decretando la sua falsità. «Fai il finto rimbambito, ma è il più furbo di tutti». E nella notte vola in tendenza con la Stad fuori Giucas.